Mi trovo per l'ennesima volta dinanzi alle vasche della concattedrale. L'inefficienza dell'amministrazione Melucci non ha limiti, non ha confini. Guardate in che stato pietoso si trovano, una palude vera e propria, una palude, uno stagno, qualcosa di schifoso, di orrendo. Eppure l'amministrazione comunale di Taranto, l'amministrazione Melucci, si vantava tanto quando ci fu un evento ecclesiastico di natura di livello nazionale per la bellezza, per come sapeva manutenere le famose vasche di Gioponti. Bene, un quadro pietoso. Assessore Mattia Giorno, lei che tanto si vanta di questa transizione ecologica, culturale di Taranto, Assessore Giorno, si muova, sono finite le vacanze, si muova Assessore. È passato, si è goduto le vacanze, ha fatto bene, bello sdraiato in barca, beato lei, mentre i tarantini sudavano, ma nulla di che è giusto che uno si ritempri, ma non possiamo vivere, caro Mattia Giorno, in questo schifo, in questo stato di decozione. Anche lei Melucci, che tanto se la profuma con i croceristi, questa è la svolta green? Ah sì, green è vero, proprio verde, guardate, il verde della palute è lo stesso Assessore Manzulli. Vice sindaco Manzulli, vice sindaco, così fai turismo? Andatevene a casa, state solo distruggendo Taranto, incapaci amministrativi, questo purtroppo i tarantini si meritano. Vi hanno votato e tutti dobbiamo pagare questa scelta davvero disgraziata. Ecco la rinascita di Taranto. Caro Melucci, caro Manzulli, caro Mattia Giorno.